Ciao amici, come avrete capito il video di oggi è a tema Tommaso Paradiso e sostanzialmente volevo ragionare con voi sul come ha fatto ai dursi così male il buon Tommy Paradise Iniziamo con un piccolo giochino Allora io vi dirò quattro frasi alcune saranno prese da canzoni dei giornalisti e altre no quindi facciamo un po' come il gioco Duce non Duce di Lundini per intenderci Mi dovete dire quale frase appartiene a chi Allora la prima frase è questa Devo recuperarla Quando torno a casa ho fame I compiti me li fa il cane Prima frase Seconda frase, la recuperiamo anche questa La seconda frase dice Noi che crediamo solo ai sogni e basta Noi che fumiamo mentre va la pasta E questa era la seconda frase La terza frase è Luserare, andarci sotto, maledetta E provare robe forti un'altra volta E poi abbiamo la quarta La quarta è Io non fumo più le sigarette, sono troppo corte, sono troppo strette Quindi fatemi sapere Diciamo Tommy Paradise, non Tommy Paradise Così, giochino per iniziare Ma andiamo a vedere invece il testo della canzone di oggi Così capite subito una delle citazioni Il testo della canzone di oggi è di Tommy Paradise da solo Ed è la canzone, ricordami, che credo sia dell'estate 2020 È vergognosa sta canzone Cioè io adesso ho capito che lui e Calcutta hanno preso questa strada Per la quale nelle canzoni possono dire quello che gli pare E tutti gli si prostrano ai piedi Ma non vuol dire che lo devi fare Cioè non è che se lo puoi fare lo devi fare per forza Non è che se devi poter inserire nomi di città italiane random in una canzone Allora lo devi fare perché funziona bene Prima cosa E adesso poi vediamo il testo bene Seconda cosa è Di solito io quando parlo, non so, dei testi di rama Ovviamente i testi di rama partono da zero Quindi non posso confrontarli con altri suoi testi Mentre dei giornalisti E Tommy Paradise in generale Hanno fatto anche delle robe Decenti Infatti dopo facciamo un confronto con una vecchia canzone dei giornalisti Ma la vediamo alla fine Cioè per vedere il passaggio Cioè come è successo Le droghe, non lo so La droga da E la droga dai Allora Il testo di ricordami È vergognoso Noi che crediamo solo ai sogni e basta Noi che fumiamo mentre va la pasta Noi che sbagliamo a mandare i messaggi Nessuno che capisce i nostri sbagli Visible confusion Cioè la cosa più stupida che io abbia mai letto A noi che non ci piace fare finta A noi che a volte non abbiamo grinta Tu sei proprio cerchi, no? Sei come fare le rime No? Rima con finta La lista ne prendi una Amore Sally, toccami la mano Scopiamo pure su questo divano Cioè adesso io non sto dicendo spirale ovale, no? Che comunque c'è della tensione sessuale Qua è così Così Scopiamo pure su questo divano E se finisse pure il mondo adesso La nostra vita resterà lo stesso No? Tommy, no? Abbracciami, baciamoci, ricordami Tanto comunque andrà Sarà un successo Ecco Questo me lo immagino Il produttore Tommy Paradise Quando hanno scritto sta porcheria, no? Che gli dice Abbracciami, baciamoci, ricordami Tanto comunque andrà Questa canzone vende Ma che cazzo me ne frega Sarà un successo Abbracciami, baciamoci, ricordami Soprattutto io avevo paura di essere dimenticato Vi prego Ascoltate le mie canzoni di merda Tu che mi dici Asciugati i capelli Tu che ti svegli Sempre dopo di me Asciugati, ok Ok, che cazzo di consigli sono? Io che non so che giorno è Ma son contento Ce ne andremo in vacanza Sto sempre parlando col produttore Io me ne immagino così E se finisse pure il mondo adesso Finita Cioè la canzone è finita così Nel senso che poi ci sono Cioè questo è Contenuto? Nullo Nullo Parole a caso Cioè una canzone reggaeton di rama Più significato a momenti Ma torniamo invece Sempre dei giornalisti Canzone un po' più seria Dall'album Come si chiama questo album? Volume 1 Dei giornalisti Anno 2011 Quello con la penna Per intenderci La canzone si chiama Autostrade umane Che conoscerete sicuramente Quello che dico è Cioè come ha fatto Adesso non so se magari Il testo qua non è suo Ma credo proprio di sì invece Come ha fatto a passare da questa A Ricordami Cioè Cosa è successo? Poi alla fine invece Vi consiglio una canzone Sempre di Tommy Paradise Che però è adatta Al suo stile Ma ve lo dico alla fine Comunque adesso andiamo in una certa parte Di questa canzone Quindi la cosa particolare qui È proprio vedere l'evoluzione Della stessa persona che scrive Non Cioè non lo Non metto guccini Contro dei giornalisti Perché vabbè Sarebbe come sparare Sulla croce rossa Però Allora la canzone dice Insegnami a mangiare le verdure Che fanno bene Va bene Sì Come comunicare Vorrei accertare che Siamo uomini Non tanto per il fatto Che si muore Ma perché usiamo le parole Per comunicare Faremo in modo Che le parole Siano ponti da lanciare Che collegano autostrade Milioni di autostrade umane Insegnami a morire Insegnami a gioire Insegnami a rischiare Su quelle cose Che fanno bene Come comunicare Vorrei accertare Che siamo uomini Non tanto per il fatto Che si muore Ma perché usiamo le parole Ecco Tommy Paradise Le cazzo di parole Non vuol dire Metterle in fila Cazzo di merda Vaffanculo Ma io sono zen E Non mi arrabbio assolutamente E infatti vi consiglio Invece Una canzone Anzi ve la lascio Ve la lascio qua sotto Che era una canzone Che Tommy Paradise Adesso la cerchiamo Eccola qua Che Tommy Paradise Ha scritto Sia credo Testo e musica Per Rozzechino d'Oro E si chiama Come i pesci Gli elefanti Le tigri Che in verità È un'ottima canzone Devo dire Prima di tutto Si capisce subito Che è di Tommy Paradise Secondo in verità È ottima E si appiana Con il suo livello Di scrittura Sei anni Ciao Ciao